come ho detto oggi bisogna stare attenti nei posti vicino al sentiero qui nel pulito che si vedono bene guardate qua uno si vede che si vede bene e l'altro anche si vede bene quindi iniziamo a raccogliere questo perché questi sono magnifici questo è un porcino magnifico qui ne abbiamo un altro sempre molto molto bello forse anche di più un po' mangiato siamo vicini insomma per dire per essere un giorno che non si trova niente non è male guardate qua ce n'è un altro che sta venendo fuori lo lasciamo qua qua intorno adesso ci diamo un'occhiata perché siamo praticamente di fianco al sentiero quindi la gente come sempre non guarda e ci sono i funghi più belli in assoluto grazie